ai quintetti con la Dinamo Banco di Sardegna che si schiera con Joyner Holmes, Anna Makurat, Deborah Carangelo che prova subito a prendere la linea di fondo e perde il pallone quindi Elin Gustafson e Sam Thomas, queste le prime 5 di Antonello Restivo con Carangelo che va a rubare il pallone e a recapitare a canestro con la caparbia proprio di Deborah Carangelo di cui abbiamo parlato e parleremo adesso a lunga con i primi 3 di Sam Thomas, pagliato già dall'altra parte, pronta Luca per trovare i primi 2 con Treffers tira a casa per inserirla dentro e fuori dal campo e i risultati li possiamo vedere con la tripla e il quinto punto personale a referto 17 a referto nella semifinale di Supercoppa contro Schio, palla persa però ancora per la compagine di Andreoli di Tocco, molto bene ancora Holmes per Gustafson la posta del banco di Sardegna è affidata a Carangelo Holmes mentre arriva il tiro da 3 punti a segno per Luca, dicevamo a porgerlo nelle mani poi di Ciavarella, il tiro da 3 a segno per Carangelo per la giocatrice di Luca che però di fatto regala nuovamente il pallone al banco di Sardegna allora fuga in contropiede per Makurat, sa bene cosa fare in questa situazione, prova a optare per la posizione profonda di Courtney Treffers e brava la giocatrice olandese a difendersi e a recapitare il lay-up di Gustafson, il ricciolo di Carangelo, il pallone sparato in angolo Ciavarella a segno, stava salendo a bloccare invece il pallone le viene sparato addosso praticamente dalla compagna tripla in transizione, ben presa e realizzata da parte di Frustaci con la conferma definitiva Morrison per il taglio di Miccoli, fa saltare molto bene Makurat, quindi per il tiro Makurat batte Parmesani il tiro è sbagliato ma prima c'era il fallo, Makurat resta a terra dolorante prendersi subito la scena, qua stiamo parlando di un profilo diverso, una rookie che evidentemente avrà necessità di tempo per adattarsi ancora Morrison a gestire il possesso con 4 secondi sul cronometro, solo rettina, tiro da 2 per l'americana Andreoli abbastanza scontento della prestazione, Holmes si prende un'altra licenza i numeri non sono quelli devastanti, intanto arriva la tripla da 7 metri di Deborah Carangelo arriva la fine di questa partita, il Banco di Sardegna prosegue il suo percorso netto 2 vittorie su 2 in campionato, superata la Gesam Lucca per 74 a 57 MVP vale dire che non ci sono dubbi, Joyner Holmes si è presa la scena Grazie